a fare le vendite decidiamo insieme vieni vieni allora il suo organetto è in doifà quindi maestro Vittorio Cataldi facciamo una bella vieni 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 qua vieni qua io mi sono un certo dieci giorni fa un'introduzione a un concerto bellissimo veramente complimenti e mi sono appassionato alla sua musica ovviamente non abbiamo provato ma noi non abbiamo provato perché ci piace sappiamo che è una festa stasera quindi non dobbiamo dimostrare niente dobbiamo solo stare insieme stare bene e divertirci facciamo un saltare a 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 bravo grazie